Panasonic sta per avviare un programma dedicato al marchio Lumix. Ce lo spiega un po' nel dettaglio Tullio Parella di Panasonic Italia. Buongiorno a tutti. Panasonic è oggi lieta di presentare il programma dedicato al trade, quindi a tutti i nostri fotosnegozianti, che si chiamerà Lumix Specialist. Ha l'obiettivo di fornire un servizio, in termini che poi vedremo, sempre più dedicato a tutti i nostri utenti finali. L'obiettivo, come dicevamo, è quello di fornire un servizio superiore allo standard, in termini di disponibilità e tanto altro, dedicato al nostro marchio Lumix, nelle sue due versioni, Lumix e Lumix G. Entrando un po' nel dettaglio, concretamente cosa offrirete a questi specialist? Abbiamo costruito un pacchetto perché permette l'incondizione di offrire poi al nostro utente finale qualcosa che non trova in tutti i negozi. Questo è l'obiettivo finale. Come dicevamo in precedenza, il nostro negoziante deve diventare un nostro partner a 360 gradi. Questo è impossibile da fare con tutti i nostri partner, ma ne abbiamo scelti alcuni, soprattutto dedicati a chi, come i fotonegozianti, riescono a proporre al meglio tutto quello che è la nostra gamma di Lumix G, quindi di ottiche intercambiabili, insieme a tutti gli accessori e insieme a tutta la componentistica che c'è allegata. È tutto il nostro catalogo dedicato a Lumix e Lumix G. Cosa offrirete ai negozianti? Offriremo delle condizioni prettamente commerciali che sono chiaramente poi da discutere con il singolo negoziante, ma che li permetterà e li metterà in condizioni chiaramente di fornire al clientesi finale anche delle condizioni migliori. Offriremo ai fotonegozianti una visibilità maggiore rispetto a quella che è fornita a tutti. Avremo dei Lumix Specialist dealer locato sul nostro Panasonic.it. Offriremo ai nostri negozianti anche una serie di materiali dedicato all'esposizione e al display all'interno del negozio, per delle aree dedicate e per, come per esempio le magliette Lumix, per personalizzare i singoli commessi. Avranno anche la possibilità di avere un canale privilegiato per esempio per sapere quali macchine, quali obiettivi, quali accessori usciranno nei prossimi mesi? Ne stiamo parlando proprio in questo momento e a breve noi terremo anche una convention dedicata a questi fotonegozianti per presentare quelle che saranno poi le prossime uscite in anteprima per loro come per esempio la GF5 che presenteremo a brevissimo. Quindi questi fotonegozianti saranno diciamo un po' la nostra crema della distribuzione e all'interno di questo discorso loro avranno, come accennavi tu Marina, anche un preview di quello che è tutto quello che sarà la nostra line-up futura proprio al fine di migliorare al meglio la distribuzione. Hai parlato di una selezione, quindi avete già individuato i negozianti che possono diventare specialist. È possibile che altri attori possano entrare in questo programma successivamente? Come dicevamo all'inizio, l'obiettivo è dare al cliente finale, al cliente Lumix Panasonic, il servizio migliore possibile. Questo che cosa comporta? Comporta che il programma è assolutamente aperto sia in entrata che in uscita. I nostri partner devono accedere alle nostre condizioni migliori e devono chiaramente rispettare alcune esigenze, alcune richieste fatte da Panasonic. La stessa cosa succederà al contrario, quindi sia in entrata che in uscita assolutamente sì, potremo aggiungere dei dealer che riceveranno questi requisiti e che vorranno partecipare al nostro programma o anche toglierne degli altri che non si sentono di mantenere determinate condizioni.